La puntata più temuta di X-Factor 12, cioè la semifinale, ha decretato l'uscita di Martina Attili e Leo Gassman. Il cantante di Mara Mayunki è arrivato fino alla seconda manche, poi è andato al ballottaggio con Luna Melis. Risultato il meno votato, il ragazzo ha salutato e ringraziato tutti prima di andare, così il padre ha finalmente potuto dire la sua. L'attore in effetti è rimasto in disparte fino a quel momento, poi con Leo fuori dalla gara ha potuto cinguettare «Bravo, figlio mio, sono fiero di te, ti voglio bene». Inutile dire che è arrivata una pioggia di complimenti per entrambi sui social. Leo infatti è stato apprezzato certamente per la voce, ma anche per l'educazione e l'umiltà mostrata ogni volta. Il figlio sempre educato, modesto, normale, fa notare qualcuno, evidentemente l'hanno cresciuto bene, bravi. Grazie a tutti.